Il classico modo di fare dropshipping è morto per sempre, come si faceva dropshipping all'unice a 7 con tutte le grafiche prese dagli express e scrause vendendo prodotti con 20 giorni di spedizione Ok, quello è finito, non potete fare più soldi per sempre, basta Semplicemente questo mercato si è evoluto e sono nati diverse versioni di fare dropshipping, alcune appunto che vanno più su Prevalable Altre come l'ultima che vedremo con questo HTE famosissimo che appunto sta spotpando in America Che vi farò vedere, ovviamente stiamo lanciando anche uno store, stiamo testando appunto per provarlo E poi una sorta di dropshipping, quindi come fare? Drop ancora ad oggi vi farò vedere, fatto nel modo giusto con le creative, le ads e quindi me ne è successo Cominciamo subito il video Anzi, prima di cominciare vai in descrizione su mattuticristina.it, c'è pure il link giù, così ti iscrivi e ti vai a guardare 12 ore di corso sull'e-commerce, il più bello che c'è in Italia 4.000 persone c'è dentro, già anche di più E fra brevissimo, fra qualche settimana esce il modulo 6 sulle Facebook Ads e più di 20 lezioni, vantela a guardare subito Cominciamo Quindi il primo modo è fare quello che io chiamo il branded dropshipping, sarebbe tipo un dropshipping brandizzato Quello è il trucco, qui è la cosa più importante, passiamo qui al computer E in pratica sembrare di essere più grande di quello che si è Questo è un concetto molto importante Se noi vediamo questo store, questo store molto probabilmente fanno drop È uno store che molti di voi è un prodotto che penso che avete visto, sta spopando tantissimo online Molto probabilmente loro fanno davvero tipo drop, comunque fanno qualcosa simile al drop Quindi perché comunque hanno tipo molto probabilmente logistica solamente 1.6 Quindi se vendono in Europa probabilmente fanno drop in Europa L'unica cosa è che se voi ci fate caso non sembra in drop Cioè sembrano molto più sul prevalable appunto perché hanno messo tipo le cose visto su Che probabilmente non sono vere Hanno un prodotto apparentemente brandizzato Questa molto spesso è una truffa perché il prodotto molto probabilmente non arriva davvero brandizzato Cioè lo brandizzano solamente su Photoshop, con Photoshop praticamente Quindi cosa fanno loro? Loro semplicemente fanno e hanno un brand, creano un brand fittizio Utilizzando diverse tecniche Come la landing page in questo caso appunto tutte queste grafiche fatte da loro Perché molto probabilmente essendo che sono brandizzate queste grafiche Nessun altro tipo del loro competitor può usarle o comunque usa perché i loro prodotti non sono brandizzati In questo caso tipo loro puntano tutto, la differenza la fanno le creative Fanno tantissime creative che appunto fanno 8.1 milioni Quasi, cioè creative che davvero fanno la maggior parte della pubblicità In più tutta la pubblicità che loro fanno a pagamento sicuro Perché l'ho visto pure su Facebook, su Instagram Collaborano con influencer famosi Questo di qua è un'influenza che si è tantissima appunto su TikTok, su Instagram Mi spunta anche su YouTube certe volte Quindi mandano questi prodotti praticamente e vincono e battono la concorrenza Semplicemente puntando tutto sulle creative Vi ho già spiegato appunto nei video precedenti anche riguardando le Facebook Ads Che c'è questa nuova strategia che si chiama DCT Per fare le campagne Sia su Facebook, su TikTok specialmente Questo ti fa capire che appunto dove si punta tutto sulle ads Non più tipo sul targeting, sulle campagne Tipo tutte queste cose strane Si punta semplicemente tutto sulle pubblicità Perché appunto ad oggi, specialmente più si va avanti Tutti i cambiamenti che si sono su Facebook, su TikTok Più si va avanti, più vi dovete rendere conto Che è il targeting, tutto il successo del vostro store È dato sempre dalle creative, dei video Dovete creare un sistema O comunque pagare qualcuno per farlo Se ancora voi non l'avete messo in piedi Per buttare giù uno, due, tre video settimane di questo genere Beh, metterli su TikTok E per quelli che vi funzionano di più Specialmente questo per esempio I primi tre O comunque tra tutti quelli che vi fanno più views Li prendo Collaboro con influencer Faccio pubblicità E appunto Sono più forte apparentemente degli altri Per realtà faccio Di tre le quinte faccio sempre drop Quindi questo di qua è il primo metodo Che pur essendo molto semplice Molti di voi sanno che appunto si fa così Tantissime persone lo fanno Perché si limitano appunto A prendere le classiche grafiche scrause Che tutti usano A rubare soprattutto video Quindi a posto di farli E mi mettermi io giù A fare i video io Perché riesco Guarda li prendo Li rubo a qualcun altro Perché non voglio rischiare Che quel prodotto non funzioni E così via Tutto parte da lì Parte dal prodotto Devo essere bravo prima di tutto A cercare il prodotto E a capire se davvero quel prodotto funzioni davvero Perché se lo so Ovviamente Non mi metto i pallini in testa Ah forse è troppo rischioso Non funzionerà Quindi non voglio investire troppi soldi Numero 2 Prevalable con mini stock Questa è una opinione preferita Quando molto spesso faccio e-commerce O comunque consiglio sempre di fare e-commerce Se avete budget Consiglio sempre di fare appunto Un Prevalable E con Prevalable Non intendo tipo fare per forza Loghi Prodotti brandizzati Mille pezzi Mille tagli Basta appunto fare Prevalable con super mini stock Cento pezzi O addirittura come vedremo qui per esempio Su Alibaba Per tantissimi prodotti Si possono fare addirittura anche tipo Per esempio Si chiama mock questo Minimum order quantity Quindi sarebbe la quantità minima di ordine Si possono prendere addirittura Per esempio anche tipo 30, 40, 50 pezzi In genere se io faccio un ordine Per esempio Quindi voglio prendere 30 pezzi solamente Mi vengono 10 dollari Quindi 10 euro sarebbero super giù A pezzo Più 60 dollari Di spedizione Con 350 euro Ho fatto letteralmente Un Prevalable Posso fare addirittura Dei packaging personalizzati Posso prendere anche Solibaba Se voglio Oppure no Posso prendere su Packhelp.it Spunterebbe qualcosa di più Qua sopra Quindi vado a fare un Prevalable Con un mini stock Questo è il mio preferito Ovviamente C'è sempre il fattore rischio Ovviamente Sì Grazie a Diciamo così Il fattore rischio Quando si fa in predatoria È normale Per questo Come dicevo poco fa Dovete essere bravi Per capire appunto Se un prodotto funziona Oppure no Fate stock Entro due settimane Vi arriva E dopo che vi arriva Potete fare Code Sin da subito Vendete questi 30 pezzi In pochissimi giorni Perché se fate code Avete questo prodotto Lo potete vendere Lo comprate a 10 euro Lo vendete Metteteci 6 7 euro di spedizione Lo potete vendere anche A 34,90 39,90 Per iniziare in code 30 pezzi Li vendete ragazzi Non riuscite a vendere 30 pezzi Con uno store fatto bene E questo è un esempio Di store fatto bene Quindi con delle grafiche Bellissime Sempre lì Dei video bellissimi Quindi fate dei video Come in questo caso 30 pezzi O già letteralmente Li vendete in 2-3 giorni Avete venduto questi pezzi Praticamente Questo però È una cosa molto importante Perché nella maggior parte Dei casi A meno che Il margine di profitto Non è abbastanza Vi porta ad avere Andare a pari O comunque Essere un pochettino In perdita Quindi sembrerà strano Ma è la maggior parte Deve volte Quando voi vendete Riuscite a vendere Questi 30 pezzi Tra i soldi Che avete investito In grafiche Nello store Perché appunto C'è L'avviamento Del business È come quando Apriete il ristorante Cioè i primi mesi Siete tipo In perdita Ovviamente Comunque siete Pochi profitti Quei soldi Che voi fate Quindi io prendo Questi 10 pezzi 30 pezzi Li vendo Ci faccio 1500 euro Perché li vendo A 50 euro Ciascuno Sto esagerando Ovviamente Ci faccio 1500 euro Altri 1500 Li ho spesi Io tra azze E foto che ho fatto Influenza che ho pagato E vado a pari Però appunto C'ho ora Un business Che funziona Perché ci ho fatto Uno store Che funziona Su questo business Ovviamente Ho venduto in code Ho preso clienti Ho capito Che il prodotto Funziona Dopodiché Prendo di questi 1500 euro Che ho fatto Ne prendo 1000 E vado a fare Uno stock Più grande Di 1000 pezzi Quindi posso andare A prendere Per esempio Anche Vediamo 100 pezzi Posso andare A prendere 100 pezzi Che mi vengono 1000 euro E se vendo Questi 100 pezzi A 50 euro Ciascuno Ora ce l'ho Fatti 5000 E le creative Già ce le avete fatte Perché già le avete Comprate nel primo stock In poche parole Quando fate un mini stock Non dovete solamente Vedere Ah guarda Ho fatto Se compro 30 pezzi E poi li vendo Ci ho perso soldi Perché ovviamente All'inizio Dovete spendere più soldi Per fare le creative Per fare tutto Ma nel momento In cui fate Le creative Le fate solamente una volta Se funzionano quelle creative Vi fermate Fate un nuovo stock E con quelle creative Che voi già avete Con lo store già fatto Non dovete investire più soldi Vi fate Un botto di soldi Praticamente E tra tutte queste tre opzioni Io personalmente Quello che faccio io Alla maggior parte delle volte E quello che consiglio sempre a tutti Sono appunto Questi mini prevaleva Un piccolo consiglio Prima di fare appunto Questi mini prevaleva Conviene sempre vendere Prodotti broad Perché i prodotti broad Quindi i prodotti Che tu puoi vendere alle masse Senza nicchie Tipo questo prodotto Per esempio Questo guinzaglio per i cani Smart Super bello Carino Oppure questo Questo diciamo Per pulire i denti Non mi viene appunto Come si chiama in questo momento Sono prodotti Che puoi vendere alle masse Quindi un pubblico Un mercato molto grande Quindi c'è Ti viene più facile venderlo Perché in genere le masse L'acquirente impulsivo X Di proprio standard Non fa ricerche Compra molto velocemente online Quindi specialmente se c'è code E soprattutto Dove vendere prodotti Che non superano Tipo I 50 O almeno inizialmente Quindi comprate a 10 E rivendete tipo a 40 Comprate a 15 E rivendete a 50 Super giusto E l'ultimo modo di fare Dropship Comunque e-commerce Sarebbe l'HTE Che significa High Ticket E-Commerce Però sarebbe fare Uno store di e-commerce Di prodotti high ticket Quindi molto di nicchia E molto costosi Int Questa è una cosa molto importante E piccolo disclaimer Questi prodotti Specialmente di nicchia Se avete in Italia Avete un mercato molto piccolo Il mercato Ho già spiegato appunto Nel corso gratis Questo appunto Del 12 ore Che vi dicevo È una cosa importantissima Perché il mercato Determina quanto potete scalare E quanto viene facile Appunto vendere ai clienti Perché se c'è un mercato piccolo I clienti sono quelli Se c'erano tanti concorrenti C'è poco spazio per voi Quindi questi prodotti Specialmente Questi high ticket Che ora vi spiega appunto Cosa sono Conviene venderli in America Conviene vendere in un mercato globale In inglese Quindi se parlate in inglese Viene molto più facile Siete avvantaggiati In cosa consiste? Consiste nel vendere prodotti E fare uno store Di vendere dove si vendono prodotti O a catalogo O monoprodotto La maggior parte sono a catalogo I prodotti super costosi Quindi costano sopra i 500 Addirittura sopra i 1000 euro Questo di qua per esempio È uno store che vende Ovviamente molto grande Che vende camini Per interni Per interni smart Questo a parte Che è uno store Molto brutto Cioè è davvero bruttissimo Vendono prodotti Che apparentemente Non sono brandizzati E questa è una cosa Molto importante Perché il fatto Per forza un prodotto Deve essere brandizzato Ce lo vedo C'è questo catalogo Che appunto Possono vendere tantissimi prodotti Non mi interessa Il prodotto brandizzato Specialmente per questo prodotto Che è un prodotto Che si mette a casa Per forza devo vedere la marca L'importante è che appunto Io sono sicuro Che questo di qua Ha le giuste dimensioni E così via Ci sono due modi Di fare IT e e-commerce Il primo È rivendendo prodotti Facendo il classico Dropshipping Da Alibaba Quindi vado qui Visto che in questo caso Posso prendere anche un pezzo Quindi contatto il fornitore Di cui faccio dropshipping Prendo questi prodotti A un pezzo 800 dollari E posso rivenderli Tipo a 3000 O anche il doppio Tipo 1600 Dipende da le dimensioni Non so appunto Le dimensioni in questo caso Comunque posso venderli Anche al doppio per esempio Nella maggior parte Delle volte Questi prodotti Molto costosi Si possono mettere Se ne possono comprare Anche uno Qua c'è un altro esempio Di questi tipo Studi Stanze Che molto spesso Si sono visti anche Tipo in giro su tiktok Si vedono Tipo quando ci fanno i video Posso aprire uno store Guardate qua Il mock è uno Quindi posso letteralmente Fare dropshipping Di questo prodotto Lo compro Vedendo l'opzione Per esempio Questa nera Quindi facciamo così Lo compro A 2340 dollari Lo posso vendere A 3000 3500 5000 dollari Ovviamente Dipende come lo marketizzo E appunto Faccio dropshipping Di prodotti Super costosi I margini Sono molto più grandi Mi basta letteralmente Fare tipo 2-3-4 vendite al mese E sono apposto È più difficile Vendere ovviamente Ci vogliono più soldi Il costo per acquisizione Di cliente Ovviamente sarà più alto Si fa molto Google Ads In questi casi Perché non sono prodotti Che tu compri Di impulso Su TikTok Sono prodotti Che la maggior parte Li cerco su Google Mi spunto il tuo store E poi lo compro Quindi deve esserci Un marketing Uno store davvero Fatto molto bene Perché piuttosto Che sulle creative Si punta tantissimo Sullo store Sulla fiducia Che traspare appunto Sul vostro store E qua c'è un altro esempio Tipo questo di qua Vendono saune Per esterni Cioè addirittura Anche saune per interni Quindi letteralmente Potete vendere Tutto ciò che volete Anche qui Gli stessi principi Si applicano Devono essere prodotti In primis Di qualità Che valgono Quei prezzi Unici Cioè che la maggior parte Delle persone Ancora non ha visto Comunque non c'è Tantissima concorrenza E quindi potete vendere Il secondo modo Invece di fare Etiquette e-commerce È rivendendo prodotti Brandizzati Quindi per esempio Io vado qui E trovo che questa azienda Un'azienda made in USA Non lo so Sto facendo esempio Un'azienda made in USA Che proprio Li fabbricano loro Queste saune Le fanno nella loro fabbrica E hanno il loro marchio Quello che posso fare Io li contatto È rivendere i loro prodotti Quindi in pratica Loro mi fanno da fornitore E rivendere i loro prodotti Sul mio store È molto più difficile Ho visto che ci sono persone Tantissime persone Che fanno questa cosa Quindi tipo Fungo solamente a rivenditori Come se fosse appunto Rivenditori Di prodotti Brandizzati I margini sono più piccoli E più bassi Perché ovviamente Loro lo vendono Lo vendono a questo prezzo E talmente Magari ti fanno qualche sconto Se si arriva A dei contratti A degli accordi Magari più alti In un secondo momento Però è più difficile Questo è un altro modo Che le persone fanno Io personalmente Lo consiglio Anche perché Fare dropshipping Da Alibaba In questi O da oggi Diventò semplicissimo Perché anche Si possono prendere Tipo un pezzo Dei pezzi minimi Quindi squadra Questi di qua Sono i tre modi Di fare e-commerce Ad oggi Dovete ragionare Soprattutto in base Al budget che voi avete Quindi dovete capire Guardate quanto budget ho Che conoscenze ho So fare tantissimo Google Ads Per esempio Potete fare Etichetti di e-commerce Con questi prodotti costosi So fare molto bene Appunto Google Ads Anche uno store di e-commerce Con delle foto Quindi so vendere molto bene Anche prodotti costosi Perché appunto Esperienza Fate Etichetti e-commerce Non lo consiglio a molti principianti Se avete esperienza Fatelo Sapete fare invece Molti Sapete fare i video Per esempio Le grafie Quindi potete fare Sin da subito Prendi dropshipping Specialmente se avete poco budget Oppure un mini stock Se avete un po' più di budget E siete comunque A seconda o terza storia Che state facendo Quindi vi raccomando Dovete sempre ragionare In base alla vostra situazione E capire appunto In base alle vostre conoscenze E al vostro budget Ciò che potete fare Fammi sapere nei commenti Cosa ne pensi Vai su mattugiristica.it Così scrivi alla minuslettere Gratis Dove troverai 12 ore A momenti anche Tipo più Tipo 15-16 ore Su appunto Facebook Adzi Come tutto quello che vuoi E noi ci becchiamo Al prossimo video Bye